L'altro invece l'Ado che è un seguito è... Questo è un seguito italiano, ci ha lasciato i partitori perché è un seguito divertente. Noi abbiamo trovato lì. Qui adesso con noi è tranquillo. Ci sono strane, ma vanno in modo strano. Anzi, però c'è un rapporto con voi. I nostri amori. Anche lui quant'è? Sempre tre anni? Trago, sì, perché sono arrivato con Bassi e poi Bassi l'abbiamo fatto adestrare. E dove ci prima li vede. Lui la c'è, meglio non è. E' la mano la magica! 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 lei va vicino al tavolo ci vado in piscina ma come vuoi abbiamo preso poco da voi e no che metti mesi e vabbè quindi c'ha 10 nel 2002 abbiamo è un biologico lei è la pastore non lo so però con le pecore quando siamo via tutti insieme la ladra grazie guarda i cani fedeli che si buttano subito a me è Amir che sembrava Amir Amir? no no non è Amir, Amir sta dietro ma che spettacolo l'unico cane comunque che segue il padrone brava Sigma amore brava inizio è molto importante guarda che bellissima questa cosa bello taglia questa è bellissima l'hai fatta ma non vuoi vedere che cos'è? femmina ragazzi guardate un po' cazzi guarda che è